Quando la tecnologia incontra il mondo dell'apprendimento. Presentata in questi giorni nella scuola dell'infanzia Gesù Bambino di Valdobbiadene, la nuova LIM, lavagna interattiva che permette ai bambini di imparare divertendosi. Qui siamo nella scuola dell'infanzia Gesù Bambino di Valdobbiadene, io sono la coordinatrice della scuola, qui con noi abbiamo alcuni bambini e delle insegnanti, proprio perché volevamo presentare una delle ultime novità che abbiamo acquistato in dotazione alla scuola. Abbiamo preso, grazie alla comprensione del nostro comitato di gestione, una LIM, che è una lavagna multimediale con la quale i nostri bambini possono interagire. È una lavagna un po' speciale, che loro troveranno sicuramente anche negli anni futuri, quando inizieranno la scuola primaria e le scuole di primo grado, superiori di primo grado e di secondo grado. E che comunque noi abbiamo pensato già di introdurre a questa età, in quanto dà modo ai bambini di rendere le lezioni un po' più simpatiche, più agevolate. Perché c'è proprio il coinvolgimento attivo dei bambini. Noi abbiamo pensato questo lavoro come laboratorio per i bambini stessi e abbiamo iniziato a studiare, a prendere contatto con questa lavagna luminosa, proprio con il laboratorio di inglese. Ma possiamo fare anche storie. Oggi per esempio vi faremo vedere l'utilizzo come conoscenza dei colori. Ed è molto efficace, in quanto i bambini proprio prendono confidenza con questa nuova strumentazione e sono sempre molto attivi e partecipi. La loro attenzione è sempre molto destra, proprio perché vengono coinvolti direttamente durante questi momenti di lezione, chiamiamoli. Quindi abbiamo visto che i propri bambini sono molto contenti di prendere parte a questi laboratori e ci sembra un buon risultato. Naturalmente questa cosa è circoscritta al momento del laboratorio perché tutte le altre attività che riguardano la nostra scuola le portiamo avanti come sempre, nel senso che ci occupiamo di tutto l'aspetto che interessa il bambino, l'educazione del bambino, la crescita del bambino. E a tal proposito devo dire che quest'anno abbiamo anche introdotto dei nuovi laboratori che riguardano proprio la corporità dei bambini. Abbiamo chiamato delle persone esperte che hanno fatto delle lezioni di rugby con i bambini. Adesso, in questo periodo di marzo, stanno facendo lezioni di karate e naturalmente abbiamo fatto psicomotricità fanno educazione musicale, fanno educazione stradale per cui tutte quelle cose che interessano proprio la globalità del bambino oltre ai progetti legati proprio a quella che è la nostra programmazione annuale. Per cui questo è un qualcosina in più che la nostra scuola voleva dare ai nostri bambini. E siamo molto contenti che il comitato ci abbia seguito in questo nostro progetto e pian piano lo metteremo sempre più a punto e cercheremo di farlo usufruire il meglio per noi e anche per i nostri bambini.